E' un giovanissimo influencer hipster, ha la Barbarossa, un passato sulla passerella e un fratello gemello. Ecco chi è Valerio Salvatori. Classe 1995, Valerio è nato il 14 marzo a Fermo, nelle Marche. Con il fratello gemello Fabrizio ha frequentato l'istituto tecnico e si è laureato con 110 lode alla facoltà di Management e Finanza. Durante gli anni universitari i due hanno lavorato come PR e vocalist in alcuni locali marchigiani, arrivando poi ad accostarsi al mondo della moda milanese. Le collaborazioni con brand di successo li hanno portati a sfilare su alcune tra le più prestigiose passerelle del mondo, grazie alle quali hanno acquisito fama e popolarità. Entrambi appassionati di recitazione si sono iscritti all'Accademia Radiotelevisiva di Roma, affacciandosi così al mondo mediatico e partecipando a programmi come Le Iene, Sbandati e avanti un altro, trasmissione preserale mediaset di Paolo Bonolis che li ha visti nel cast per ben tre anni. Forti della popolarità raggiunta, i gemelli sono approdati a Sky alla conduzione del programma Epic Twins, ma non è tutto. Sempre insieme, nel 2019, hanno partecipato al talent show targato Rai 1 Ballando con le stelle e appassionati di tecnologia alla trasmissione pomeridiana Detto Fatto in veste di esperti del settore. A febbraio 2020, invece, Zaino in spalla, si sono uniti al cast del reality show Pechino Express, giunto all'ottava edizione e sempre capitanato da Costantino della Gerardesca. Per quanto riguarda la vita privata di Valerio, non si sa se sia fidanzato, anche se in fondo la sua è già una quotidianità di coppia. Per quanto riguarda la vita privata di Valerio, non si sa fidanzato, anche se in fondo la sua è già una quotidianità di coppia.